Io sono Mario Arpino, sono nato a Tarvisio, in provincia di Udine, un paesino vicino all'Austria. Io sono nato a 300 metri dall'Austria, meno di un chilometro dalla Jugoslavia. Sono abbastanza stentrionale da quel punto di vista, però sono a Roma e ci sto bene, sono contento. Sono nato il 20 luglio del 1937, quindi ho 83 anni adesso e sono rimasto lassù nel nord-est per parecchi anni. Ho fatto fino alla terza media nel nord-est, la seconda media l'ho fatta a Tarvisio, poi sono sceso a Udine e mi sono civilizzato, sono andato in città. Poi quando ho fatto il concorso per l'Accademia sono arrivato a Napoli, quindi mi sono immerso anche nella civiltà mediterranea che non conoscevo da orsacchiotto di montagna come ero. Quindi è stato l'iter iniziale. Perché sono entrato in aeronautica? Ma io ho delle tradizioni di famiglia, diciamo. Avevo uno zio che era fratello di mia mamma, si chiamava Riccardini, Evaristo Riccardini. Era il capocorso del corso Orione, quindi è entrato nel 1934 all'Accademia Aeronautica con l'Orione ed è morto giovane. Ha fatto la guerra di Spagna, è diventato pilota militare, è andato a Gorizia al quarto stormo, al decimo gruppo, come il duca d'Aosta c'era allora. E' andato in Spagna, ha fatto tutta la guerra di Spagna, è tornato dalla Spagna e qualche mese dopo è morto in un volo notturno. E' stato abbagliato, una volta si usava il faro di terra, ma anche noi usavamo il faro di terra, non so se anche il comandante se lo ricorda. E' stato abbagliato da questo faro, richiamato alto, capottato, dopo due giorni è morto. E questo zio aveva 24 anni quando è morto ed era il fratello di mia mamma. E me lo ricordo molto bene, è stato uno dei motivi per cui sono entrato in aeronautica, ma non l'unico, non l'unico. E questo zio è venuto a trovarci a Cave del Predil, io abitavo a Cave del Predil. Un paese sul confine, anche questo, dove c'era una miniera, dove lavorava mio padre come impiegato minerario, diciamo, amministrativo. Ecco, è venuto a trovarci, appena rientrato alla Spagna, in Nivisa. E io mi ricordo che era in cucina e mi aveva regalato un cannoncino, no? Era l'epoca, era il 30, io ero piccolo, ho tre anni, no? Meno di tre anni. Mi ha portato questo cannoncino, me lo ricordo ancora, un cannoncino verde con la molla di legno, con delle bombette gialle, aveva una rastrelliera, e mia mamma gli stava offrendo il caffè, lui erano in piedi, lui era lì in divisa, mia mamma, la sua sorella, finiva questo caffè. Io ho provato questo cannoncino, ho messo la bombetta, ho tirato la molla, e che ha fatto questa bombetta gialla? Ha fatto una paraboletta piccola, perché sparava due metri, tre metri, e è caduto nella tazzina del caffè che lui stava bevendo, ma ho però vivissime queste immagini. È caduto nella tazzina del caffè e gli ha schizzato tutta la camicia, la camicia bianca. Allora si è alzato con pazienza, mia mamma mi ha tolto il cannoncino, ha cominciato a prendere smacchiatori, stracci, spazzolini, eccetera, lui si è tolto la giacca e l'ha messa sullo schienale della sedia. Mettendola sullo schienale della sedia, lì è stato il famoso libro Galeotto, perché ha messo la giacca alla mia altezza, io ero alto più o meno come la sedia, un po' meno, e mi ricordo che giravo attorno a questa sedia e guardavo questi bottoni d'oro e i gradi da tenente, e guardavo questa cosa, l'aquila ogni tanto andava a toccare l'aquila, non mi ricordo, no? Perché ho capito cos'era il pilota, insomma, in casa mia mamma ne parlava sempre, no? E niente, così ho avuto questo primo contatto ed è una cosa che mi sono ricordato sempre, ma non è l'ultima perché io avevo un altro zio, uno zio che si chiamava Carlo Miani, aveva fatto tutta la guerra, era stato in Russia, era stato in Africa, in Africa era stato abbattuto sulla Sicilia durante gli attacchi, le scorte su Malta, era andato in Tunisia fino alla fine, e poi quando è tornato, è tornato con Visconti, il famoso Visconti, quello che è stato ucciso dai partigiani comunisti, poi a Milano, nella caserma del Savoia Cavalleria. Ecco, era amico di Visconti, sono tornati assieme e sono andati tutti e due nella Repubblica Sociale, nella NR, non sono andati al sud. Visconti è diventato comandante del primo gruppo e lui era il secondo, il capo delle operazioni del secondo gruppo che si era formato, si chiamava proprio secondo, Gigi Treosei. E me lo ricordo molto perché la sede del gruppo è stata inizialmente Udine, Campo Formido, e poi il gruppo, siccome c'erano i bombardamenti continui, si era dimezzato, una parte è rimasta a Udine, una parte è andata a Vicenza, una parte... e il comando è andato ad Aviano, una parte a Osoppo, con Bella Gambi, che è stato il mio comandante mitico, comandante di Storno, anche lì avrei tante cose a raccontare. Era gente in gamba questa. Mio zio è nel frattempo diventato comandante di gruppo, ha promosso maggiore e Aviano ha comandato il gruppo fino all'ultimo. Visconti ha deciso di consegnarsi ai partisani perché l'hanno circondato all'Inate, eccetera. Mio zio invece è andato con tutto il gruppo a Orio Alserio e lì si è messo con gli aerei messi a raggera, con le armi cariche e nessuno si è avvicinato finché sono arrivati gli americani e quindi lì si sono salvati tutti. Visconti invece l'hanno ammazzato assieme a Stefanini e mio zio ha combattuto fino all'ultimo e l'ultimo combattimento l'ho fatto sopra Vicenza. Io in quel periodo era Udine da mia nonna perché a Cave del Predil c'erano i partigiani slavi supportati dai partigiani della Garibaldi italiani comunisti. Tutta quella zona lì loro lavoravano agli ordini del nono corpus sloveno di Tito e tutta quella zona lì fino all'Isonzo, eccetera, doveva diventare Jugoslavia allora. E loro collaboravano a questo, collaboravano a portare i partigiani titini nelle case degli italiani e sono venuti anche a prendere mio padre. Ne ricordo ancora, sono arrivati col mitra in due, accompagnati da un comunista italiano, stella rossa sulla bustina e a cercare di prendere mio padre. Mio padre è riuscito a scappare, c'erano due ingressi in questa casa, è riuscito a scappare. Mia mamma e io eravamo sulla finestra e mia mamma teneva in braccio il mio fratellino Giorgio, che adesso è un ingegnere. Stavamo sulla finestra, abbiamo visto mio padre correre, correva, corriva e comunque a una centinaia di metri, non se ne era accorto, c'era un blocco di partigiani slavi. L'hanno fermato, mio padre parlava sia lo sloveno che il tedesco tranquillamente e l'abbiamo visto che contrattava con questi qui, parlava, si scaldava con questi, questi l'hanno fermato, hanno preparato i mitra. Mia mamma, mi ricordo, mi ha messo giù la testa, stai giù, perché adesso lo ammazzano, non lo devi vedere, no? E mi ha messo la testa giù e poi no, 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 dice guarda che sta scappando. Io ho ritirato fuori la testa, l'ho visto che corriva, corriva verso la strada che scendeva dal passo del predil, da dove stanno scendendo delle cingolette inglesi, erano i primi inglesi che arrivavano. E questi inglesi, lui si è buttato in mezzo a queste cingolette, questi hanno capito la situazione, hanno visto gli slavi, l'hanno tirato su e l'hanno portato via, l'hanno portato a Tarvisio, così si è salvato. 40 però li hanno presi e 38 dei quali sono stati ammazzati in un sistema lì. Perché 38 e non 39? Perché il 39esimo era, mi ricordo, era un certo signor Orsari, accompagno di ufficio a mio papà, che mentre veniva trasportato col camion per andare a essere ammazzato, fucilato, è riuscito a buttarsi, e anche lui, l'abbiamo visto alla finestra, a buttarsi dal camion, ha rotolato nella scarpata, finito in mezzo ai cespugli e la sera io e mia mamma siamo andati a tirarlo fuori, è rimasto nascosto lì, aveva una gamba rotta, io avevo 8 anni, sono verso i 9. Ecco, questo non c'entra niente con lo zio, con lo zio Carlo comunque, perché i partigiani hanno detto che sarebbero venuti in paese e di fatti sono venuti, hanno ammazzato un sacco di gente, tra cui 13 carabinieri di cui uno picconate, visto io, con il manico, l'ho visto congelato per terra, con il manico ancora rotto, con il piccone impiantato e il manico rotto, no? Vabbè, e allora mi hanno mandato a Udine, qui eravamo ancora nel 44 però, faccio un passo indietro di un anno, mi hanno mandato a Udine dove c'era mia nonna e lì mi portavano in rifugio perché c'erano i bombardamenti, non ti ammazzavano i partigiani ma ci sono stati mille morti a Udine sui bombardamenti e mi portavano in rifugio e io scappavo fuori dal rifugio, vi ricordo, eludevo, per un periodo c'è stata anche mia mamma, eludevo la sorveglianza, scappavo fuori, andavo sul piazzale per vedere i combattimenti, c'erano tutti questi, questa marea di bombardieri che passavano con questi caccia con due code, no? Io mi ricordo ancora con due code, erano i Lightning, no? Sti caccia con due code e questi quattro aeroplani della, del, che erano G55 allora, loro erano inizialmente G55 dell'Aeronautorazionale Repubblicana, comandati da mio zio, che li attaccavano, di muso, li attaccavano di muso, mi ricordo ancora, si buttavano giù, andavano più bassi, poi li attaccavano da sotto, sotto il muso, così, in fila indiana. Uno l'hanno abbattuto, un gregario e mia zia, era un sergente, l'hanno abbattuto e caduto in una piazza a Udine, in piazza 20 Settembre, e poi tornavano via, e io scappavo fuori, poi mi riacchiappavano, mi riportavano dentro, e abitavano da mia nonna, e mia mamma suonava, era brava, suonava al piano. Questo mio zio, Carlo, suonava il violino, era bravissimo a suonare il violino. E la sera, qualche volta, la sera veniva giù da Osoppo, o meglio quando stavano a Campoformido, o quando stavano a Viano anche, e veniva a trovare mia mamma, e ci trovavano tutti, io stavo con lui, e magari il giorno ho visto il combattimento, e la sera arrivava lui col violino, e facevano, mi commuovo ancora, la sonata Kreuzer, insieme, mia mamma col piano, lui col violino, e io stavo nell'angolo lì, ma è possibile che sia, questo qui, quello che ho visto, attaccare le fortezze volanti, oggi pomeriggio, no? Era lui, e questo è stato il secondo motivo per cui io dicevo, devo fare queste cose qui. E le ho fatte, ho entrato con il corso rostro, avevo fatto il brevetto, già, perché il bidetto ministeriale, perché volevo entrare con un corso di complemento, poi ho aspettato, invece ho fatto il concorso per l'Accademia, e sono entrato.